Alfa Romeo Stelvio TI, un 2002 turbodiesel con 210 cavalli, vettura che non ha percorso strada e un chilometri zero, smartphone mirroring, retrocamera, vernice extra serie, sensori parcheggio anteriori e posteriori, volante e sedili riscaldabili, portone non elettrico, interno in pelle, fari fendinebbia e cruise control. La vettura è un trazione integrale, chilometri zero automatico, 51.900 euro. Seat Arona cilindrata, 1000, benzina, 95 cavalli, 62.000 chilometri percorsi, climatizzatore, cruise control, sensori parcheggio, fendinebbia, bluetooth, cerchi in lega, vettura garantita 12 mesi, 18.900 euro. Fiat 500X Connect, 1300 multijet, 95 cavalli, vettura con soli 40.000 chilometri, smartphone mirroring, vernice metallizzata, vetri oscurati, cruise control, fendinebbia, sensori parcheggio, ruota di scorta, garanzia ufficiale fino a 2023, 22.900 euro. Ragazzi vi aspetto domani, puntuali, stessi canali, per le occasioni del giorno Fassina, tre per te, preparatemi!